Buongiorno e benvenuti a questo primo incontro dei quattro dedicati al cavallo. Mi chiamo Federica Giometti e pratico levitazione senza fini agonistici, quindi per puro divertimento. Mi è stato chiesto di parlare del cavallo. Sono rimasta entusiasta di questa cosa perché negli ultimi anni in cui mi sono dedicata a questa passione ho scoperto che il cavallo è stato fondamentale nella storia dell'uomo e molti sono gli argomenti che lo riguardano. Parlando con amici che praticano levitazione o che sono semplicemente innamorati di questi animali ci siamo accorti quanto le persone in un genere non sanno molto né del cavallo né della sua storia né delle attività che possono essere fatte a cavallo. Quindi lo scopo di questi brevi incontri sarà quello di dargli delle informazioni, delle ricrizze cercando di creare un po' di curiosità intorno a questo meraviglioso animale. Vi parlo dal casale della Sterpaia che si trova qui a San Rossore. La tenuta di San Rossore è molto cara a noi tisani non soltanto perché ci veniamo a fare le scampagnate nei giorni di festa ma anche perché, e questo è un po' di noi cavaliari amazzoni tisani è possibile accedervi anche a cavallo. Il parco di San Rossore, come ben sapete, è sede dell'ippodromo che è uno dei più importanti ippodromi italiani che addirittura vanta tradizioni dalla famiglia di Lorena adesso è gestito dalla società Alfea. A San Rossore, quest'ultimo mese di agosto, si è svolta anche un'importante manifestazione la Toscana Endurance Lifestyle durante la quale si sono cimentati nella gara dell'endurance i migliori cavalieri internazionali. Passando a vedere quelle che sono le discipline olimpiche parliamo innanzitutto del salto ostacoli che è considerata la disciplina principe dell'equitazione e è quella maggiormente praticata nel nostro paese. I concorrenti devono affrontare all'interno di un campo di gara che può essere in erba o in sabbia un percorso composto da ostacoli mobili di vario tipo che devono essere superati. Il livello di difficoltà delle gare dipende dall'entità degli ostacoli e dai diversi tipi di categorie. L'abbattimento dell'ostacolo da parte del concorrente o l'eventuale rifiuto del cavallo di saltare un ostacolo costituiscono delle penalità. Il cavallo d'assalto ostacoli deve essere potente e maneggevole oltre che preciso, veloce e completamente rispondente alle azioni del cavaliere perché dovrà muoversi spesso anche in spazi ristretti facendo girate repentine. L'altra disciplina olimpica è il dressage. Il dressage moderno si svolge in un rettangolo di 60 metri per 20 e la gara viene chiamata ripresa. Penso che qualcuno di voi abbia avuto modo di vedere almeno una volta una gara di dressage. Il cavallo sembra danzare sotto la guida di un cavaliere che rimane pressoché immobile. È necessaria una perfetta simbiosi tra cavallo e cavaliere. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro incontro. Ringrazio tutti per l'attenzione. Spero di avervi comunicato un po' di passione e di avervi incuriosito. Forse andrete a vedere qualche maneggio. Speriamo. Vi aspetto per la prossima nostra chiacchierata in cui affronteremo il tema del cavallo nella storia.